Calore, affetto e politica. Torna il Passioni Festival nella splendida location della tenuta di Frassinetto. Ospite d'onore è Walter Veltroni, che ha presentato il libro Il caso Moro e la prima repubblica, breve storia di una lunga stagione politica. Il Passioni Festival è diventato ormai un appuntamento importante non solo per Arezzo, ma insomma ha assunto un rilievo ancora maggiore. Quindi mi fa piacere tornare, tornare a ragionare su una vicenda i cui contorni, la cui natura e le cui motivazioni meritano di essere ancora approfondite. Un paese non ha più trovato una sua razionale organizzazione istituzionale e stiamo ancora pagando le conseguenze di quel processo di progressiva disgregazione che si è prodotta nella società italiana a partire dal 1978. Io non ho mai creduto alla seconda repubblica. Le repubbliche cambiano quando cambiano le Costituzioni. Da noi sono cambiate le leggi elettorali al massimo.